Parliamo di immigrazione, nonostante il lavoro di coordinamento con sindaci, prefetture e strutture di accoglienza sono in aumento i no alle richieste di asilo. Ieri in Consiglio regionale l'assessora all'immigrazione Monica Cerutti ha fornito alcune cifre. Su un totale di 1916 decisioni prese dalle commissioni territoriali nei primi 5 mesi del 2016 le domande rigettate o che comunque hanno avuto esito negativo sono state 1343 mentre quelle con un esito positivo sono state solo 573. Ma sentiamo che cosa ha detto l'assessora stessa intervistata da Michele Ruggero. Purtroppo abbiamo una situazione nella quale effettivamente il 70% riceve risposta negativa dalla commissione territoriale confermata poi dal ricorso e quindi abbiamo tantissime persone per le quali vengono anche avviati dei percorsi di inclusione che rischiano alla fine di quello che è l'ITER che all'incirca dura due anni di rimanere appunto irregolari e quindi essere costretti a lasciare il nostro paese. Tutto questo sembra anche in rotta di contraddizione con l'atteggiamento e i comportamenti che hanno le amministrazioni comunali e il loro impegno soprattutto. Infatti noi riceviamo sempre di più lamenti, proteste da parte di sindaci che stanno lavorando all'integrazione e però si trovano con questa spada di Damocle sulla testa con persone sulle quali si investe, si investe umanamente e anche economicamente e su cui invece poi abbiamo così la possibilità di vedere, di mandare completamente in fumo questo investimento. Ma a questo punto Assessora, chi deve intervenire? Il Ministero degli Interni, il Governo e faccio mia quella che è la proposta di Migrantes che venga dato a queste persone il permesso che sia appunto quella che è la protezione umanitaria in modo che queste persone non diventino irregolari.